Buongiorno, mi sa che devo stare così perché sennò non si sente con il microfono, quindi il talk lo terrò così. Vi presento, io sono Moreno Razzoli, probabilmente qualcuno di voi mi conoscerà tramite il mio canale Moro Linux, su cui pubblico video su Gno Linux e Open Source da oltre 15 anni. Ho sviluppato e contribuito a diversi progetti Open Source, sono training partner autorizzato Linux Professional Institute, questo è quanto. Oggi parliamo di 5 falsi miti, in realtà non sono mai stati veri oppure non sono più veri, ma si sono comunque consolidati, specialmente tra chi comincia a utilizzare Gno Linux e ha una serie di preconcetti. Dovrebbe esserci abbastanza tempo per farlo in maniera informale, un po' interattiva. Facciamo così, io praticamente alla fine di ogni punto vi chiedo se ci sono obiezioni e voi potete aggiungere il vostro contributo, espandere ciò che ho detto, cose di questo tipo. Primo mito di cui andiamo a parlare oggi, Gno Linux è il sistema operativo dei poveri, se l'avete già sentita, no? Ho sentito personalmente qualcuno dire che, ah, ma Gno Linux ce l'hai perché non hai i soldi per comprarti la licenza Windows, oppure perché non hai i soldi per comprare un computer decente e giri con queste robe qua. Intendiamoci, è vero, cioè, è vero, non devi comprare una licenza per usare Gno Linux, è vero, gira anche su questi obrobri qua, che comunque hanno fatto la storia dell'informatica, ma questi sono soltanto un paio di vantaggi collaterali del fatto di usare il software libero e del fatto di usare un sistema operativo efficiente. D'altro canto, è anche vero che Gno Linux è il sistema operativo preferito dell'Enterprise, gira sui 500 supercomputer più potenti al mondo e le principali big tech hanno costruito il loro impero su Gno Linux e altri progetti open source. E non mi sembrano esattamente poveri. Non solo, questo screenshot riporta i contributori più attivi nel kernel Linux. Qui parliamo della versione 5.16 fino alla versione 6.1 e come vedete in testa abbiamo, a seconda della classifica, Intel, Google, Linaro, Red Hat, Meta, Tutti nomi che conosciamo abbastanza bene, tutte realtà piuttosto miliardarie, diciamo. Quindi basta con questa leggenda metropolitana che Gno Linux è sviluppato soltanto e interamente da volontari nel tempo libero. C'è anche quella componente, ma sicuramente scrivere codice kernel e in generale contribuire allo sviluppo di un software è un'operazione che richiede parecchio tempo, parecchia energia, parecchi sforzi. E quindi sì, ci sta che ci sia la componente volontaria, ma dopo un certo punto per scalare servono anche i fondi, servono anche persone pagate per stare otto ore al giorno o più sedute davanti allo schermo. E di fatto questa è la realtà delle cose. Molti questa cosa non la sanno e quindi ho voluto mettere questo screenshot integrativo. Parliamo di meme sempre, visto che questa intera collezione di punti l'ho ispirata ovviamente dai meme che ho trovato su internet. Questo è uno dei miei preferiti, la GANU Car, una lattina praticamente, un trabicolo di dubbia funzionalità che tutto sommato porta in giro il suo proprietario che se ne vanta e dice che il suo veicolo è meglio di quelli dei marchi più famosi perché l'ha costruito lui, lo conosce perfettamente in ogni minima parte e se si rompe può essere lui a metterci le mani. E poi insomma ci sono tutti questi commentini che vi invito a leggere. Secondo me questo è così divertente perché un pochino è anche vero. Cioè rappresenta lo stato dell'arte di GNU Linux sul desktop. Cioè dove raffazzoni tutto quanto un po' a pezzi e per ogni cosa c'è un workaround ma sono tutte cose che generalmente su altri sistemi operativi non hai bisogno di fare. Però ne vai fiero perché l'hai sistemato tu, hai imparato tanto facendolo. E la cosa più interessante, io aggiungo, è che queste competenze sono spesso trasferibili in ambito lavorativo nello scenario di cui parlavo prima. Quindi io sono contento quando mi si rompe qualcosa, quando un pezzo di questa macchina o la portiera casca o il cerchione si smonta perché è un'occasione in più per imparare qualcosa di nuovo. La settimana scorsa ho aggiornato la mia installazione di Arch Linux che già molti dicono sei pazzo se usi Arch Linux per lavoro. Io uso Arch Linux per lavoro, cioè proprio la mia macchina principale è Arch Linux. Ah ma io voglio qualcosa di stabile perché se lavoro non devo perdere tempo a sistemare le cose. Ho un piano di backup, tranquilli. Ho anche, funziona anche bene. Però sono contento quando si rompono le cose perché appena ho un momento per vedere cosa è andato storto imparo un sacco di cose. Ad esempio la mia installazione l'ultima volta che l'ho fatta era su ZFS che non è manco supportato ufficialmente su Linux per problemi di licensing. Quindi assolutamente una cosa da non fare, soprattutto per la root file system perché installi Linux su un file system su cui è supportato solo come modulo esterno vuol dire che se si rompe qualcosa o si disallinea il modulo di ZFS di questo file system con il kernel non butta più il sistema, non parte più. Ed è esattamente quello che è successo e sono stato super felice, forse sono un po' masochista, non lo so. Secondo me un paragone più corretto comunque non è tanto quello dell'auto Ganucar ma questo qui. Quello alla sinistra è un drone DJI di quelli commerciali, preassemblati. lo trovi a scaffale, lo alzi in volo con un click, si vola praticamente da solo e funziona, basta. È tutto automatico. Quello alla destra è un modellino FPV. Generalmente te li assembli tu questi. Non sono di una marca, ogni componente è di una marca diversa potenzialmente. Se si rompe lo sistemi tu, non c'è nessun centro autorizzato di riparazioni. C'è tanto, tanto, tanto fai da te nella costruzione di questi. Soprattutto per volare questi eh no, non è che stanno in aria da soli. Questi se molli gli stick vanno nel paese accanto e poi cascano in testa qualcuno. Sono due cose molto diverse. Ma il risultato è molto diverso perché il primo vola così. Fotografia aerea, come abbiamo detto, riprese cinematiche. È un prodotto commerciale finito. Il secondo vola così. È chiaro che sono due cose molto diverse. Meglio o peggio? Penso che il paragone non abbia senso. Se avessi dovuto fare la ripresa cinematica sicuramente sarei andato più su un drone DJI. Non c'è meglio o peggio, ma penso che sia chiaro qual è Linux versus cos'è Windows e Mac OS in questo paragone, no? Sicuramente il modellino FPV richiede più tempo ed edizione. Ah, prima di andare oltre. Ci sono domande, ci sono, anzi, obiezioni su quello che ho detto, qualcosa che volete integrare. Vi ricordo che potete alzare la mano in qualsiasi momento se non siete d'accordo o volete aggiungere qualcosa. Ma posso provocare dicendo che se magari provavi con B3FS non si smette a B3FS? No, sì, assolutamente. Io ho provato a fare l'installazione su B3FS diverse volte. Però, non lo so, ZFS ha quel fascino, non è una cosa razionale che ti saprei spiegare. Me l'hanno detto in tanti che sono un pochino discutibili in questa scelta. Però al cuore non si comanda. Altre obiezioni? Ok. Secondo falso mito, GNU Linux è difficile. Questo è un meme molto popolare che probabilmente molti di voi hanno già visto. Nella maggior parte dei casi, secondo me, la difficoltà percepita è veramente esagerata. Cioè, per chi viene da fuori vede che comunque noi usiamo il terminale. E quindi, oh mio Dio, ma tu sei tipo Matrix, come fai? Cioè, è una cosa difficilissima. E secondo me, la difficoltà più grande è accettare la novità e quindi lasciarsi dietro i preconcetti dei sistemi operativi a cui siamo abituati quando passiamo a Linux. Comunque, dal punto di vista dell'usabilità abbiamo fatto un sacco di passi avanti ultimamente. È difficile installare una distro? Installare un'applicazione è molto difficile? Sono gli software store ormai da un po' di anni. Installare i driver in... Vabbè, ok. Vabbè. Il terminale. Il terminale è difficile. La differenza è tra interagire col proprio sistema operativo cliccando o scrivendo. La gente è abituata a cliccare e quando deve scrivere per interagire col sistema operativo si sente che quello non è il suo posto, c'è qualcosa che non va. Sono nei guai, potrei mettermi ancora più nei guai. È una questione solo di abitudine. Non sai cosa scrivere nel terminale? C'è un comando chiamato MAN. Non hai voglia di leggere manuale? È pieno di ottimi tutorial. o ottimi corsi. Ci sono anche delle risorse gratuite sul mio canale YouTube. È veramente una cosa che fra l'altro sta cominciando ad andare abbastanza di moda ultimamente, quindi troverete un sacco di altri canali YouTube che trattano questa cosa, sono sempre di più. Non mi sembra che sia una cosa così difficile. Spaventosa? Posso essere d'accordo. Difficile? Non lo so. Ci sono obiezioni su quanto detto? Qualcosa da integrare? Cheat.sh Cheat.sh Ottimo! Che praticamente ti dà delle scorciatoie per i comandi più comuni, i flag di invocazione, le cose più utili. Ok, prossimo punto. Su Linux non si può giocare. Questo è SuperTuxKart ed è considerato da molti il gioco più moderno e migliore che potete giocare su Linux. Allora, intendiamoci. è il mio gioco preferito e probabilmente è davvero uno dei giochi migliori che trovate ancora attivamente sviluppati. E la grafica è davvero quella che vedete. Però, però, questi sono i giochi free e open source sviluppati veramente da volontari. Se usciamo dall'ambito del free e open source e andiamo su software schifosi proprietari che comunque girano su Linux, uscendo dal mondo open source su Steam troviamo oltre 27.000 titoli con supporto nativo per Linux e non sono nemmeno tutti i giochi a cui potete giocare. Sempre Valve, l'azienda che sta dietro a Steam, sta sviluppando da parecchi anni un layer di compatibilità che si chiama Proton. Non è un emulatore, è un layer di compatibilità. Prende le chiamate che vengono fatte all'API DirectX di Windows, quelle robe lì, e le trasforma in Vulkan che invece gira anche nativamente su Linux. Le performance sono veramente molto simili e paragonabili a quelle di Windows tant'è vero che ci ho provato io stesso con Cyberpunk a pochi mesi dalla sua uscita registrando una perdita di performance veramente risoria. 5 fotogrammi al secondo, 6. Alcuno potrebbe dire 5-6 fotogrammi al secondo non so mica pochi perché io ho pagato fino all'ultimo centesimo della mia RTX. Va bene, a pochi mesi dall'uscita senza particolari configurazioni. La cosa appunto su cui voglio rimarcare è che è diventato semplicissimo. L'altro giorno sotto questo video ho ricevuto un commento che mi diceva sì, però giocare su Linux sembra ancora di stare negli anni 80-90 perché è una roba complicatissima tipo Rocket Science per configurare un gioco che parta. Non mi risulta, non mi risulta. Forse questa persona ci ha provato negli anni 80, ma se ci riprovasse in questi ultimi anni io ho provato di recente non ho dovuto spendere particolare tempo per installare Proton che viene installato da solo in automatico fra l'altro con Steam e poi dopo lanciare il gioco. Ci sono obiezioni su quanto detto, però un'obiezione dovrebbe esserci. gli anti-cheat gli anti-cheat ecco, questa è l'obiezione che mi aspettavo, grazie. Gli anti-cheat sono effettivamente l'unico vero limite attuale, cioè al netto di quella perdita di performance del massimo 10% nella maggior parte dei casi che per molti può anche essere sopportabile, gli anti-cheat per i multiplayer online sono quella cosa che tiene un pochino indietro perché molti titoli famosi, non tutti ma molti, non supportano Linux. E la cosa comica che io sto seguendo questa faccenda da un po' di tempo è che ci sono delle case produttrici che utilizzano dei sistemi di anti-cheat che hanno il supporto per Linux ma non lo abilitano per Linux. Cioè, potrebbe funzionare. È quasi una questione soltanto di attivare un pulsante o un'opzione. Però no. Poi c'è anche la categoria di anti-cheat che non possono funzionare su Linux non allo stato attuale perché sono fondamentalmente dei rootkit. Cioè, eseguono in kernel space, possono leggere incontrollatamente anche al di fuori dal controllo dei programmi dei software qualunque risorsa. Io non mi fiderei mai neanche su Windows a giocare a un videogioco che esegue degli anti-cheat in quella modalità. Lo fate voi? Contenti voi. Ci sono obiezioni. quarto mito su Linux non ci sono virus. Allora, è vero, in condizioni normali non è possibile prendere un virus per Windows su Linux. Fino a qua ci siamo. Come non gira un programma normale, non gira un virus normale. Però, gran parte della sicurezza di Linux molti pensano sia innata dovuta al fatto che, oh sì, perché Linux è invulnerabile, perché Linux è più sicuro. Linux non è più sicuro di un bel niente. La sicurezza di Linux è dovuta dal fatto che ha uno scarso market share. Almeno su desktop siamo al 3% e generalmente non ci sono poi così tanti soggetti individui interessati a perdere il loro tempo nello sviluppare un virus per il 3% della popolazione. So che ho deluso qualcuno, probabilmente, dicendo questa cosa, ma è così. Però io ho anche una teoria alternativa, oltre a quella del market share. La settimana scorsa stavo preparando un video in cui, a scopo dimostrativo, volevo eseguire un ransomware per Linux. Se qualcuno ricorda WannaCry può avere un'idea che questo sia un cripto cripto coso. Ti cifra tutti i dati e poi chiede riscatto. Allora, lo dovevo compilare da codice sorgente. Ok, ho trovato un piccolo errore, ma ok, va bene. Un altro piccolo errore e per ogni errore ce n'era sempre un altro dietro l'angolo. Alla fine non sono riuscito a compilarlo in tempo utile e quindi in pratica sono giunto alla conclusione che Linux è così sicuro soltanto perché nessuno riesce mai a far funzionare niente senza perderci almeno mezza giornata. È una teoria. Beh, però se il virus lo distribui come fratto è che viene risolto. Prima dovevi riuscire a compilarlo in ogni caso. Non lo so, non lo so. La cosa più divertente è che quando ho riprovato a ricompilare la cosa per fare questi screenshot dimostrativi dopo un paio di errori fra l'altro legittimi che ho risolto molto velocemente sono riuscito a compilarlo senza problemi. Ah, però non andava lo stesso poi. Comunque, scherzi a parte, sapete dov'è che Linux spinge un sacco? Certo che lo sapete sui server. E infatti qui non a caso esistono da anni tool automatici come Linus per l'audit della sicurezza sui sistemi che c'è da un bel po' di anni qui dice 2007-2018 anche uno screenshot un po' vecchio per fare l'audit per vedere se effettivamente hai lasciato delle impostazioni che potrebbero essere un po' troppo permissive portarti dei problemi. Oppure c'è OSSEC un intrusion detection system uno dei tanti a dire il vero. Suricata che è un intrusion detection system e un intrusion prevention system. Abbiamo Crowdsec che è un IPS collaborativo collaborativo sulla base di sostanzialmente segnalazioni che vengono raccolte quando parte ad esempio un attacco di DOS o altri attacchi su larga scala tutti quelli che hanno questo agent installato cominciano a raccogliere dati e le segnalazioni le mandano a un nodo centrale che poi dice ok si sta verificando una situazione e quelli che non sono ancora stati attaccati vengono intanto notificati e dire ok comincia a bannare tutti questi indirizzi IP perché fanno parte di una botnet che sta conducendo un attacco. È una cosa che capita spesso non è una cosa così desueta e poi ci sono ovviamente anche tool come ClamAV per la scansione di malware. La lista va avanti qua ho fatto solo qualche esempio. Tornando all'ambito desktop con il progressivo aumento del market share stiamo iniziando a vedere effettivamente i primi malware per Linux. So che questa cosa potrebbe stupire più di un paio di persone ma questo è un articolo del 2 ottobre 2023 parecchio recente in cui sul snap store di Canonical sono state trovate fake crypto apps cioè praticamente quelle applicazioni per le criptovalute però finte che al posto di gestire le tue criptovalute ti andavano a rubare le credenziali del portafoglio. Yes! E questa roba ha circolato per un po' di tempo sullo snap indisturbato perché comunque il livello d'allerta è abbastanza basso. non è nemmeno la prima volta che sullo snap store circola malware questo è il 13 maggio 2018 e in questo caso si trattava di crypto miner cioè quei programmi che fanno mining di criptovalute poteva essere bitcoin monero quello che conveniva fare in quel momento ora è passato direttamente di moda siamo passati direttamente all'estorsione questo è gonna cry ecco sì un ransomware molto di piattaforma che gira per Linux ve l'ho fatto vedere prima cifra tutti i dati chiede riscatto l'utente in questione che ha postato su reddit è effettivamente riuscito a prenderlo quindi è stato più bravo di me e stava chiedendo aiuto su qualche insomma qualche soluzione spoiler spero che tu avessi un backup comunque la questione è talmente sottovalutata che questa roba è all'ordine del giorno ormai ad esempio un malware piuttosto noto nell'ecosistema Linux ha potuto circolare indisturbato per almeno tre anni senza che nessuno se ne accorgesse o se ne curasse e soltanto Kaspersky mentre conduceva un'altra indagine ha scoperto per caso questa cosa parliamo di free download manager questo è un articolo del 12 settembre 2023 e hanno trovato che in molti casi partiva il download della versione contraffatta dal loro sito che faceva redirect su un dominio malevolo per scaricare il software con un trojan allegato in omaggio non è nemmeno la prima volta sempre qui che free download manager distribuisce malware questa cosa wow questo è nove anni fa penso intorno al 2014 sempre gli utenti Linux erano nel mirino quindi non è neanche così tanto vero che sia soltanto una cosa che succede di recente però di recente si è sicuramente intensificato il che mi porta alla prossima questione gli antivirus per Linux quello che nessuno voleva vedere penso che conosciate la maggior parte di questi in realtà purtroppo o per fortuna hanno market share sono stati sviluppati sapevate di questa cosa? no eh no neanche io è stato un duro colpo spero di non aver mai bisogno di installare un antivirus perché altrimenti veramente posso cambiare mestiere c'è sempre BSD c'è sempre BSD sì sì lì è davvero lì siamo allo 0.0% quindi ci sono obiezioni o punti che volete integrare in questa cosa? prego secondo me il motivo per cui non ci sono virus non è solo la quota di mercato particolarmente ridotta ma soprattutto il fatto che l'utente medio utilizza i repository per scaricare i pacchetti per cui se ti attieni ai repository standard dovresti di norma avere del software garantito dalla community o da comunque chi ci sta dietro questo dimostra anche che alcuni repository standard come snap sono la brutta cosa che bisognerebbe evitare perché riesce a entrare anche chi non ha diciamo questa visione del sistema sono d'accordo poi integro se non è stato fatto già diciamo che in linea di principio hai ragione però l'utente medio tipo mio fratello che non fa una cosa che ha a che fare con il computer e con l'informatica che usa Linux la prima cosa che fa quando deve cercare un programma è che va su internet poi se c'è da scaricare un SA con Targizeta lo scarica senza farsi troppi problemi anche un utente medio di Linux purtroppo sì purtroppo sì perché poi noi vediamo con gli occhi vuol dire che sta diventando mainstream se l'utente medio di Linux si comporta come un utente Windows packages che comunque non sono spesso moderati e che comunque le persone ne fanno largamente uso per cui repository non è necessariamente uguale buono cover ok prima di passare la parola al prossimo volevo effettivamente coadiuvare un pochino tutto quello che è stato detto dicendo che effettivamente I use Arch by the way e su Arch ci sono gli Arch user repository come è stato detto che a tutti gli effetti non sono dei repository ufficiali ma repository in cui qualunque utente senza particolari controlli può effettivamente caricare il proprio pacchetto e quindi questa cosa dell'usare il package manager comincia a essere sempre meno vera così come per lo Snap Store su cui tra l'altro dovrebbe avere controllo esclusivo Canonical visto che il server proprietario è gestito solo da loro e non fa neanche un gran lavoro nel controllare la veridicità di queste cioè la correttezza e l'autenticità del software che viene caricato diciamo che ci sono anche siti come Free Download Manager che ti distribuiscono soltanto dal sito in download quindi purtroppo sta diventando sempre meno vero anche con i sistemi di packaging alternativi che sono sempre più famosi popolari utilizzati quindi diciamo che il fardello della distribuzione del software non è più soltanto unicamente in base in gestione al maintainer della distribuzione ma a volte anche in maniera un pochino decentralizzata con i pro e i contro che ne derivano ecco prego a proposito degli AUR e in generale di tutti i repository non diciamo non con me un it tendenzialmente per molte cose devi ancora andare su git andando su git hai la possibilità di informarti e di leggere il codice sorgente magari c'è bisogno di una libreria che fa una cosa particolare vai a leggerti quella libreria e finisci per scoprire se è la cosa che ti serve o non ti serve per cui tendenzialmente c'è anche questo vantaggio su windows non avendo codice open source chiaramente questa cosa qui non è possibile per cui non è che hai molte alternative su linux invece almeno puoi farlo ok allora effettivamente su linux ma diciamo con il software libero in generale hai accesso al codice sorgente quindi puoi verificare tu stesso se ci sono dei malware all'interno la vera questione è quante persone effettivamente vadano a verificare questa cosa visto che parliamo di codebase specialmente di migliaia di righe di codice e farlo per ogni pacchetto che vai a installare o per ogni libreria forse anche soltanto per una nella maggior parte dei casi io non è che mi metto oltretutto certe volte una backdoor può essere nascosta in maniera abbastanza sneaky in maniera abbastanza subdola in modo che alla fine tu passando così velocemente non avendo scritto tu il codice magari potresti non renderti conto di un effetto collaterale desiderabile per un attore malevolo che ti passa completamente inosservato ci sono degli esempi adesso la butto lì un attimo come riferimento di quando un'università americana ha fatto così come prova di sottomettere come contributo al kernel linux delle patch che contenevano delle vulnerabilità di sicurezza non è così banale la questione non è così applicabile purtroppo anche se in linea è vero che è una possibilità che abbiamo e che sicuramente apprezziamo tutti quanti ecco una cosa che volevo dire spezzando anche una lancia sulle riprese parti è che secondo me quello che è successo sullo snap store è un pochino colpa di come funziona snap perché tipo innanzitutto i pacchetti senza un grandissimo qua dovrebbero essere distribuiti in modalità confinata solo che snap non solo ti permette di eluderla distribuendoli in classic mode ma il confinamento funziona solo su Ubuntu quindi loro lo vendono anche come servizio multipiattaforma ma in realtà non è tanto multipiattaforma Flatpak ha i suoi problemi però i pacchetti vanno confinati comunque con FlatSeal si può controllare la sandbox e se ci si fida di FlatHub su Github ci sono tutti i build script con le Github Actions che compilano tutto quindi in teoria si può anche vedere come viene compilato il pacchetto cioè delle soluzioni un pochino migliori esistono ecco grazie per questa osservazione perché effettivamente sì io volevo parlare in generale del driver che sono del codice appunto che lavora anzi a più basso livello cioè tu dici sui driver abbiamo ancora meno controllo perché sì anche perché nessuno controlla appunto cosa viene dentro e cosa c'è scritto allora tecnicamente i maintainer del kernel fanno un discreto lavoro che io sappia prima di approvare qualcosa un contributore deve veramente piangere però ci sono anche quei moduli kernel che sono distribuiti out of tree e possono essere anche proprietari tra l'altro o anche se non lo fossero vallo tu a leggere un codice kernel per capire se c'è qualcosa di non proprio corretto che stava succedendo non è semplice non è banale ancora meno sì facciamo ancora un ultimo yes per quanto riguarda flatpak chiudo con i miei interventi occhio perché fare cioè da distributore di applicazioni flatpak una volta che ti fai approvare l'applicazione poi nella giornata la sei autonomo quindi tu puoi cambiare il manifesto completamente con uno malevolo quindi anche là sempre il grenello di sale quando quando scarichi applicazioni da sorgere di terza ah cioè quindi tu puoi pubblicare un software che non è tutto ok me lo faccio provare buono te lo fai provare buono e poi dopo con un aggiornamento lo sminchi e va benissimo perché poi sono autonomo dopo la prima approvazione e poi nei push sono autonomo non lo sapevo questo bello molto molti dal pubblico sempre dicono che comunque alla fine si parla sempre di software libero come anche un cambiamento filosofico e ho visto aziende che comunque chiedono di comprare hardware che supporti la distribuzione che vogliono in questo modo non devono installare driver proprietari questa è una cosa abbastanza interessante che comunque si sviluppa un po' questa strada in cui non mi lamento più dei driver che non funzionano perché lo prevengo prima comprando hardware che supporti il mio sistema operativo questo è interessante perché ti lascia comunque un'indipendenza poi completa e tu puoi pagare qualsiasi consulente esterno per verificare la tua macchina per verificare tutte le catene di software da cui dipendi questa comunque è una cosa che altrimenti non avresti alcuna possibilità con windows oppure altri sistemi esattamente anzi grazie valerio perché questo è il segue perfetto per il prossimo punto se nessuno ha nient'altro da aggiungere immagino che più o meno abbiamo parlato tutti prossimo punto su linux non c'è supporto hardware che in parte è vero lo stavamo discutendo fino a poco fa questo era linux torval nel 2012 che diciamo esprimeva il suo dissenso per il per la collaborazione un po' manchevole da parte di nvidia nella contribuzione al kernel ecco in realtà le cose che io sappia sono un pochino migliorate si vede che ogni tanto questi gestacci servono anche a qualcosa e abbiamo qualche problemino che su altre piattaforme non c'è ma funziona ok su questo penso che possiamo essere tutti d'accordo qualcuno alzi la mano per dire che non è vero gli sparo è ben peggio in realtà quando non funzionano periferiche base come la webcam o il wifi o la scheda audio e via dicendo non è successo con la tastiera la tastiera è grave eh sì eh sì per nessuno per nessuno specialmente ricordo quando uscirono i primi macbook del 2016 mi sembra con la touchbar che avevano tutto un controller proprietario tutto diverso per cui non funzionava la tastiera è sempre più raro che periferiche di base non funzionino però può ancora capitare con certe marche specialmente subito dopo l'uscita dell'hardware in questione il problema come al solito è rappresentato dal market share di linux 3% siamo sempre lì a meno che non sia un hardware per cui l'azienda che lo sviluppa ha un interesse economico nello svilupparlo è difficile che si mettano lì per beneficenza sviluppare per un 3% della popolazione che lo userebbe no in ambito desktop questo è quello che succede ora in alcuni casi un hardware che non funziona inizialmente viene fatto comunque funzionare grazie agli sforzi della community e questo è quello che è successo con il lettore di impronte digitali del portatile che sto usando per presentare che per il resto veramente funziona tutto dal primo giorno in cui l'ho comprato ho installato linux e andava tutto eccetto il lettore di impronte digitali per cui non c'è un driver open source integrato nel kernel o cosa di questo tipo non c'è un driver ufficiale nessun genere di cosa quindi con due anni due anni di reverse engineering da parte di volontari alla fine è stato fatto funzionare nel frattempo ho perso interesse ho imparato a digitare la password talmente veloce che farei prima che a fare swipe col dito sul lettore di impronte digitali però funziona questo è quando siamo fortunati a volte sappiamo tutti potremmo essere meno fortunati e potrebbe capitare per un hardware che non è così tanto sentito dalla community hacker che sa mettere le mani al kernel e quindi potrebbe non essere mai sviluppato nessun driver per questo è assolutamente fondamentale come si diceva controllare la compatibilità con linux e preferibilmente con driver open source prima ancora di acquistare hardware di qualunque tipo che sia un computer intero che sia una periferica singola o cose di questo tipo a questo proposito per chi non lo conoscesse vi consiglio questo sito chiamato linux-hardware.org è fenomenale perché questo raccoglie le segnalazioni degli utenti che provano effettivamente hardware e qui potete cercare qualunque genere di periferica per vendor product id nome qualunque campo che vi venga in mente qui c'è e controllare se effettivamente funziona o se non funziona ma non solo la parte migliore è che vi dice anche come funziona tipo meglio prendere altro oppure no questo funziona bene e se ci sono dei workaround ovvero delle cose dei passi aggiuntivi da fare per farlo funzionare perché alcune volte è anche il caso che fuori dalla scatola così appena installato non funziona ma in realtà basta che so andare a modificare un'impostazione fare una piccola patch o altre cose e di questo in realtà ne ho parlato anche più approfonditamente nel talk dell'anno scorso 5 errori da non fare 5 errori da evitare prima di passare a GNOLinux qualcosa del genere non mi ricordo il titolo ma anzi per chi ci vede da youtube con il video registrato trovate il link in scheda vabbè scherzi a parte prima di acquistare vi consiglio di fare questa prova qua questo check su questo sito e dopo aver acquistato prima di installare questo sito è ugualmente valido anche uno strumento che potete eseguire per fare un audit del sistema e generare un report che ti dice questo computer è supportato al 100% al 90% e poi ti dice cosa non va che secondo me è molto interessante ci sono cose che volete aggiungere obiezioni posso chiedere una cosa qui computer già installati con Linux sono validi c'è uno tedesco e uno spagnolo tu probabilmente parli di Tuxedo che è quello tedesco quello spagnolo non mi ricordo quali fossi no Slimbook ok anche allora è un po' diverso cioè sì allora ci sono i Dell con Linux preinstallato certi modelli ho parlato con gente che dice io ho preso questo qua ci ho cambiato distribuzione non andava questa periferica lì proprio la mentalità corporate di dire come lo installo con Windows lo installo con Linux ma Linux è soltanto Ubuntu per dire e quindi cambi distribuzione non è detto che funziona non hai il loro supporto non sono un grande fan di questo approccio per me un portatile che supporta Linux vuol dire che supporta il kernel e non è legato alla distribuzione deve funzionare su qualunque distro non mi interessa come fate il modo migliore però è che mettiate tutto quanto in upstream quindi contribuite attivamente col kernel ci sono effettivamente brand però che Tuxedo in America c'è anche quell'altro che avevo recensito System76 Tuxedo è l'equivalente alla fine loro effettivamente assemblano computer con l'ottica del supporto Linux incondizionato dalla loro distribuzione anche se li vendono con una propria distribuzione e quelli io ne ho provati un paio mi sono trovato bene ho cambiato ovviamente la distribuzione di default e non si è rotto niente quindi ti direi di sì cioè ti direi che sono buoni per la mia esperienza personale mi sono trovato bene e la qualità costruttiva non è neanche così schifosa cioè a seconda del modello ovviamente detto ciò io non lo sapevo quando ho fatto l'acquisto ho preso un ThinkPad che comunque è uno di quei modelli e generalmente i ThinkPad hanno un ottimo supporto e non è stato diverso neanche per questo ok ci sono altre cose che volete aggiungere? vai comunque appunto per dire anche lui parlava di ThinkPad sinceramente ThinkPad credo che sia l'arware più più supportato a livello Linux che esista cioè io con un po' di computer che ho avuto ho avuto un po' di problemi con Linux da quando sono passato al ThinkPad ha funzionato tutto fuori dalla scatola senza nessunissimo problema proprio installando Arch dal giorno zero sì è la stessa mia esperienza a cui ThinkPad mi sono sempre trovato bene senza particolari cose l'unica cosa appunto è che quelli sono portatili che nascono con Windows poi per qualche ragione supportano bene Linux hanno hardware super standard e questo aiuta alla stessa maniera di quelli assemblati apposta tipo Tuxedo che vengono assemblati cioè non ho una forte preferenza per ThinkPad versus Tuxedo per dire l'osservazione che posso fare è che Tuxedo li vende direttamente con Linux con quella mentalità lì e quindi mi dà più l'idea che anche a lungo termine continui a interessargli perché è il loro core business mentre nessuno ci garantisce a meno che non mi stia perdendo qualcosa che sui ThinkPad ci sarà sempre su tutti i modelli per sempre un ottimo supporto anche quelli futuri ecco per i ThinkPad secondo me un attimo dipende perché ce ne sono alcuni storicamente specialmente i più nuovi che non hanno sempre funzionato secondo me il fatto è al contrario siccome molti utenti Linux che comunque smanettono mandano patch utilizzano i ThinkPad per questa nomina che comunque si sono fatti quando non funziona qualcosa sono loro a fare le patch c'è una community eh sì bisogna fare un attimo però il discorso al contrario cioè secondo me rimane vero che se un utente che non vuole sbattere sia fare le patch vuole un sistema che funzioni bene conviene andare sempre su qualcosa che è out of the box comunque c'è uno stampo che mi dice Linux questo è supportato assolutamente cioè la prima scelta dovrebbe essere qualcosa che è noto funzionare quindi io generalmente quando mi consigliano quale hardware mi consigli quale computer mi consigli di comprare se trovi un ThinkPad di seconda mano fai una ricerca e dici che va tutto bene è a posto prendi quello altrimenti se vuoi comprare del nuovo ci sono i produttori che lo fanno apposta quindi anche poi è anche carino è giusto supportare quelli che ne fanno il loro core business Tuxedo quelli spagnoli di Slimbook why not assolutamente condivisibilissimo e infatti tant'è vero che il discorso del lettore di impronte digitali sul mio T480S è stato proprio quell'esempio che hai fatto tu non funzionava dal giorno zero non c'era nessun interesse nel farlo funzionare da parte del produttore è stato fatto funzionare perché la community è affezionata a questo prodotto e nella community c'è gente che sa fare non è detto sugli HP per dire è molto hit or miss magari funziona magari non funziona se non funziona sono generalmente cavoli tuoi a meno che non sia un modello molto popolare considerando quanti modelli sfornano le tue probabilità sono quasi come vincere all'otto finito grazie a tutti quanti per insomma per avermi tenuto compagnia spero che vi siate divertiti almeno quanto me grazie a tutti